56 persone arrestate, 16 famiglie mafiose coinvolte. Nell'agrigiantino è scattata la più imponente operazione mai messa a segno nel territorio. Gli affari delle cosche erano droga e distorsioni, ma avevano interessi anche al centro migranti. I servizi sono di Claudio Pandolfi e poi Flavia Paone. La provincia di Agrigento era più seria. A Palermo non ci sono più persone affidabili. A Corleone invece hanno ancora la testa sulle spalle. Così parlava uno dei boss finito in manette nell'inchiesta della procura di Palermo che ha disarticolato le famiglie mafiose della provincia di Agrigento. Le intercettazioni fanno luce sulla nuova mafia che assomiglia tanto a quella di 40 anni fa. Criminali che si considerano il fiore all'occhiello di Cosa Nostra, custodi delle sue regole, del rispetto per l'organizzazione e i suoi uomini. Ancora una volta la conferma di una presenza attiva, di una presenza vitale di Cosa Nostra manifesta tutta la sua presenza, tutta la sua pericolosità, tutta la sua invasività sul territorio e sulle attività commerciali e imprenditoriali che in questo territorio si tenta di esercitare. 58 gli arresti tra cui 15 capi mafia, tra le accuse contestate, traffico di droga in collaborazione con l'Andrangheta Calabrese, voto di scambio ed estorsioni a danno di aziende, anche appaltatrici di opere pubbliche. Richieste di pizzo dai 2.000 ai 20.000 euro che nessuno, sottolineano gli inquirenti, ha mai denunciato. In manette anche il sindaco di San Biagio Platani per concorso esterno accusato di essersi messo a disposizione. La piovra voleva stendere i suoi tentacoli anche sul settore dell'accoglienza ai migranti, sia cercando di imporre il pizzo a cooperativa esistenti che progettando di aprire un nuovo centro di accoglienza. Nessuno come Salvatore Buzzi, protagonista di Mafia Capitale, ha saputo trovare una sintesi più ad effetto per spiegare ciò che l'accoglienza dei migranti rappresenta per le organizzazioni criminali, un business lucroso quanto quello degli stupefacenti. Ad Agrigento provavano a imporre pizzo e assunzioni alle associazioni che si erano fatte carico dei minori, ma le mafie di solito cercano di inserirsi nel giro delle cooperative con lo scopo di accaparrarsi bandi per la gestione dei centri straordinari, strutture che per far fronte all'emergenza sorgono in edifici privati, appartamenti, ambienti anche poco adatti. Da tempo i ragazzi ospitati nella casa Sant'Antonio di Ciro Marina lamentavano pessime condizioni di vita, ma soltanto lo scorso 9 gennaio l'operazione Stigia ha svelato chi gravitava dietro quella struttura, la cosca di Indrangheta farà o marincola che tramite amministratori compiacenti sarebbe riuscita ad ottenere i finanziamenti pubblici e che con fatture gonfiate avrebbe fatto lavorare le aziende colluse che rifornivano il centro di cibo e vestiti. Ma prima ancora i carabinieri del Rosso avevano bussato a Isola Capo Rizzuto, uno dei più grandi centri per i chiedenti asilo d'Europa, da un decennio, secondo le indagini, in mano alla coscarena. Su 100 milioni di euro elargiti dall'Unione Europea per la gestione in particolare della mensa, a 36 sarebbero finiti nelle tasche dell'Andrangheta, agli arresti per associazione mafiosa sono finite anche Leonardo Sacco, capo della misericordia, e Don Edoardo, parroco del paese. Così di loro parlava uno degli indagati che gestiva la cucina dei profughi. Il 24 maggio è stato la misca, ma è una cosa che io credo, c'è la municipazione. Grazie. Grazie.